Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo episodio Oggi non ho messo la musica, guardate Così sentite meglio la mia voce Comunque oggi faremo un po' di partite E guardate, c'è, c'è successo Questo qui è francese Vabbè Poi andiamo a giocare con Spike Scusate se da sei giorni Sei giorni non porto episodi Però perché sono stato a Parigi per quattro giorni E non prendeva la linea tanto E per due giorni E poi E poi per due giorni mi sono dimenticato che faccio lo YouTube Vabbè Comunque Finalmente sono ritornato È già un titolo Comunque andiamo a giocare con Spike Cos'è qui Andiamo Oggi in questo video Lasciate solo otto like Otto like Otto like Carlo Carlo cosa stai facendo? Ragazzi ho beccato un FK Non mi aiuto neanche Ragazzi ho beccato un compagno che non vuole più giocare con me Vabbè Comunque ragazzi Vi chiedo scusa Vi prego Perdonatemi Non faccio video da sei giorni Ma Scusate ma A Parigi Non si è piuttosto Comunque a Parigi è stato bello Vi racconto Cioè È stato bello Perché Vi racconto mentre gioco Cioè A mezzanotte La Torre Eiffel Si illumina Ed è bellissima Soprattutto Avevamo Due mesi In un hotello Poi siamo andati a Disneyland Dove mi hanno venduto una tazza Di Disneyland Dove ci bevo il latte Ed è Veramente Molto comoda Cioè perché Meglio nella tazza Cerco di non distarvi Mentre mi Vi faccio Comunque a Parigi è bello Dai Ci dovete andare Un giorno voi In Francia Cioè In realtà Io sono andato con il mio cugino In Francia Comunque Abbiamo vinto Perfetto Guarda Veramente Sono contentito Aver vinto Non so come Allora Lui è un mio amico Vabbè ragazzi Io Giochiamo Con un nostro amico Bambardino No Livello 1 Ninja Hai il primo Livello 3 Hai Bull Metti Dynamite Mettiti Bull Mettiti Bull Aspetta raga Glielo scrivo Ninja Bull L'ho scritto Vabbè intanto ragazzi Pure I mitici è venuto con noi I mitici è un nostro amico I mitici è un nostro amico che è venuto con noi Comunque è molto grande Comunque dormirete in Nutello Perché Comunque per viaggiare servono i taxi C'è pure la metro C'è pure la metro Perché C'è pure la metro Che è bellissima Vabbè la metro La metro È bellissima Per me mi piace A Luca non mi piace Perché è mio cugino Distracco parlando Comunque C'è pure il treno La metro E vabbè Poi c'è anche il taxi Con cui andare Comunque è raga Andato No no Non lo dobbiamo perdere Sì vabbè Dai Spike Ma che Spike sei No dai L'aveva ammazzato Raga Ma che partita è Rapina 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 Andiamo a rapinare Ragazzi andiamo a rapinare Siete pronti Per andare a rapinare Cosa vi ho detto Sì Ok Andiamo a rapinare Con Bombardino Andiamo a rapinare Con Bombardino Signori Metti pronti Metti pronti Il primo Is here Il primo Perché Tic Ma va cagava Il primo Abbiamo capito Sto è il primo Basta Spero Spero che il video Vi piaccia Tanto Che non lo so Spero che vi piace Il video Non c'è nessuno Raga Possiamo andare Signori Stiamo all'attacco Da l'avremo Per colpire da là Ninja Rifendi Raga Non possiamo Perdere pure Questa Questa Viva Raga Non accetto La sconfitta Se perdiamo Un'altra volta Lascio La squadra E me ne vado A giocare E' meglio Di stamattina Perché mi posso Mettere Tic Qui mi metto Gir me Some sugar Kiss ma gris E' già, non l'ho neanche commentato. Ma queste casse, ma tu non le prendi? Non, non l'ho ne prendi. Ehi, vabu! Vabu! Sto video... Ragazzi, non vi preoccupate, abbiamo fatto terzi. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!